Allora si è saltato la settimana scorsa e che l'è successo? Com'è? Che è successo? Mi sentivo male. Vabbè, ora tu sei malata? Sì, ora sto bella. Ho questo ronzio. Perché ce l'hanno chiesto? Perché un bucce di mercoledì? Perché ero malata. Ovvio, stasera però ti ho recuperato. Ho fatto la schiacciata con la farina di cece e le verdure. Una novità. Poi ho fatto gli spiedini di tofu, tutte le patate e le verdure. Il famoso tofu, bene. Anche te, tapinambur? Sì, e tapinambur. E poi ho fatto gli involtini primavera. Verdure. E piselli. E piselli. Bene. E arriva anche Felix. Bene, allora non si mangia. Buona serata. Buona serata a tutti. Ciao.